Grazie a tutti gli italiani per quello che stanno facendo tutti. Sì, anche quello, però lei ha avuto la diplomazia, la direzza di un protettorista che ha saputo tenere a bada tutta questa gente. No, no, io non ho tenuto a bada, è che tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità. Tutti, tutti. Ognuno ha fatto il suo e sta facendo il suo. Ma il capo è importante. Ma non è finita, eh? Lo so tesoro, lo so. Cioè, chiariamolo, eh? Non è ancora il tempo dei parti, delle movide, eccetera. No, 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 noi non ne abbiamo avuto. Abbiamo fatto saltare le autocertificazioni, giusto? Benissimo, grazie. Perché chiaramente le limitazioni devono essere strettamente necessarie. Adesso che c'è una curva sotto controllo saltano le autocertificazioni. Che nessuno pensi che sono saltate tutte le regole di precauzione. Se no, la curva risale, eh? Mi raccomando, non è ancora il tempo dei parti, degli assembramenti. La verrà a trovare al Palazzo Tgizio. È molto gentile. Grazie. Senz'altro. Grazie a lei. Bene. Toglietevi da qua che le macchine vanno. Non ho paura, toglietevi da qua che le macchine vanno. Non ho paura, toglietevi da qua che le macchine vanno. Non ho paura, toglietevi da qua che le macchine vanno. Non ho paura, toglietevi da qua che le macchine vanno. Grazie.